Benvenuti a questo corso MOC sulla grammatica che migliora la vita. Stavo ripassando un po' alcune cose che abbiamo scritto con Anna Cardinaletti e Rossella Iovino in questo libro, il latino per studenti con DSA. Sembra quasi una contraddizione, come può il latino essere insegnato e essere adatto agli studenti con disabilità linguistiche come disturbi specifici dell'apprendimento. Bene, forse è un obiettivo molto ambizioso, forse solo parzialmente riuscito, ma la grammatica che migliora la vita vuole dare degli strumenti inclusivi per tutti per acquisire fenomeni linguistici di tipo molto diverso. Ho tantissime aspettative in questo corso e infatti ho preso anche degli appunti. Il primo obiettivo è quello di sviluppare una competenza che sia una competenza razionale su quella che è invece la nostra competenza innata e naturale della lingua. Tutti sappiamo, molti studi ce l'hanno dimostrato, che capire come funzionano i nostri meccanismi cerebrali ci aiuta poi ad utilizzarli in modo più consapevoli. Secondo me sapere come funziona la nostra capacità di linguaggio ci rende migliori, rende noi migliori e la nostra vita migliore. Quando noi siamo più felici siamo persone più buone. Quindi capire che le nostre lingue, le lingue che parliamo non sono né migliori né peggiori delle altre lingue ci rende persone più aperte, più democratiche, con meno problemi rispetto alla propria identità e con meno problemi rispetto all'accettazione dell'identità altrui. Il secondo obiettivo molto ambizioso, che spero che sia un obiettivo diciamo di iniziazione qua, ma che potrà andare avanti in futuro è quello di raccogliere dei dati. Non chiederò in alcun modo una valutazione della vostra attività, mi piacerà invece imparare da voi quello che avrete da dirmi. Quindi io raccoglierò dei dati sulla vostra competenza utilizzando anche dopo alcune settimane la vostra meta competenza. Voi diventerete, io spero, con piacere più capaci di riflettere sulla vostra lingua e di individuare quelle cose interessantissime che fanno della vostra lingua una lingua unica e unica e nella sua unicità però molto simile agli altri. Vedremo che il linguaggio è una cosa che ci unisce, le lingue potrebbero dividerci, in realtà ci differenziano in modo molto interessante. Se riusciamo a concepire queste differenze in modo inclusivo diventeremo tutti molto più ricchi. L'altro obiettivo è quello di educare a considerare questa ricchezza culturale non come esclusiva. Detta in poche parole, noi non siamo persone monolitiche, non siamo monolingui. Il nostro cervello, vedremo, è una materia molto plastica, è resiliente, è abituato a modificarsi ed è naturalmente predisposto ad acquisire moltissime lingue. Quindi l'altro obiettivo è quello di divulgare un concetto che dovrebbe essere sempre banale, ma invece spesso nella cultura italiana sconosciuto, della naturale condizione di linguismo degli esseri umani. Quindi acquisire più lingue, soprattutto all'inizio della nostra vita, in realtà ci rende più plastici, più aperti, più efficienti nell'acquisire ulteriori nuove lingue in futuro e in assoluto non impedisce nessun tipo di acquisizione. Permettere a bambini e bambine di parlare la lingua dei nonni, la lingua dei genitori e la lingua della comunità che li circonda, quando queste non sono la stessa lingua, o meglio, le numerose lingue che coesistono nella comunità che li circonda, è in realtà arricchire il loro cervello, dare al loro cervello la possibilità di crescere e svilupparsi nel modo più plastico possibile. Le attività che faremo non sono attività appunto di verifica, ma sono solo attività di condivisione, di raccolta dei dati in forma massiva, massiccia, ampia e più ampia possibile. Io spero di avere come mio pubblico, come comunità di apprendenti, tantissime persone dentro e fuori i confini d'Italia che si interessano a quello che succede in Italia in materia linguistica e a quello che l'italiano può dare fuori d'Italia. Quindi vedremo tantissimi dialetti italiani, vedremo appunto alcuni aspetti del latino, non parlerò di inglese o di lingue straniere studiate in Italia, ma spero che ci saranno tantissime contribuzioni di seconde e terze generazioni di parlanti che vivono in Italia e di seconde e terze generazioni di parlanti dell'italiano, ma soprattutto dei dialetti italiani fuori dai confini d'Italia. Tutto questo è una sfida e sono felice di affrontarla insieme a voi.